In Italia avere un bambino ricorrendo alla procreazione assistita può costare fino a 15.600 euro. Secondo l'indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori e disavanzi sanitari, il costo per le prestazioni dalla terapia riproduttiva a cui viene sottoposta la coppia, alle spese per la gravidanza, visite, ecografie, esami ed eventuali ricoveri, per non parlare delle complicanze che possono interessare anche i nascituri al parto vero e proprio, generalmente cesario, va da un minimo di 6.900 euro in Emilia-Romagna a 15.600 in Lombardia. Il rimborso corrisposto dalle ASL in media si aggira sui 1.900 euro. Una donna su quattro inoltre esegue il trattamento in regioni diverse da quella di residenza, con una migrazione che al solito va da sud verso nord.